Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Mi chiamo Ronald, sono statunitense e sto studiando l'italiano. In questo video vorrei parlarvi perché gli italiani odiano la pizza all'ananas. Ho pubblicato questa domanda su Facebook e ho ricevuto un sacco di commenti, forse 80. Di solito quando pubblico le domande ricevo, non so, 5 commenti, quindi questo argomento è molto caldo. Forse devo dire perché la maggior parte degli italiani odiano la pizza all'ananas, perché ho scoperto che ci sono alcuni italiani che amano la pizza all'ananas e leggo alcuni commenti. Io sono italiana, ma adoro la pizza con l'ananas. E poi sono italiana e ho provato la pizza all'ananas a Londra e non era male. Ma perché? Perché la maggior parte degli italiani odiano la pizza all'ananas? Ho guardato un video su fanpage, un canale su YouTube, e c'è stato uno scherzo in cui una persona ha dato la pizza all'ananas alla gente e poi ho visto le reazioni. È stato molto divertente. Perché non amavano la pizza all'ananas. Vi faccio vedere. Un italiano ha scritto L'ananas non va bene perché è un frutto acido e il pomodoro è già acido da solo. E poi altri frutti, tipo la pera, possono andare. Ci sono molte pizze non tradizionali oggigiorno. Siamo tradizionalisti, ma sperimentiamo. E poi un altro commento. La frutta si mangia con la frutta, non con i primi o secondi. E c'è stata una risposta. Ci sono delle eccezioni come prosciutto e melone. E poi ho scoperto che qualche volta la pizza fuori non è pensata come la pizza. E mi leggo un altro commento. La pizza fuori non è pensata come pizza, ma come un insieme di ingredienti messi a caso, pensando di creare qualcosa di nuovo. Quindi in Italia c'è un'importanza sulla tradizione. che si fa la pizza in un certo modo. Sì, ci sono le pizze dolci in Italia. Ma in quel caso, non con il pomodoro o il fuor di latte, ma ad esempio la Nutella. Questa domanda è interessante. Ci sono certi posti oppure certe pizzerie negli Stati Uniti che fanno la pizza autentica come fanno in Italia. Forse ho sbagliato, non sono sicuro, ma ho mangiato una pizza in una pizzeria che si chiama Piazza Italia. E la pizza è fatta un po' come Napoli. Lo stile. Perché le persone oppure i propriatori di questa pizzeria vengono dall'Italia e fanno la pizza autentica. Grazie per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto. E ho una domanda per voi. Cosa ne pensate? vi piace la pizza all'ananas oppure no? E poi, perché gli italiani odiano la pizza all'ananas? Avete qualcosa da aggiungere? Grazie ancora. Non dimenticate di iscrivervi. Mettete un like. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!